Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe e sono uno studente di Riccardo e con questo video volevo ringraziare innanzitutto Riccardo per l'opportunità che mi è stata data. L'ho conosciuto per la prima volta un mese e mezzo fa attraverso una sua sponsorizzata su YouTube e siccome in quel periodo ero alla ricerca di un metodo e comunque dei guadagni online, ho deciso di approfondire il tutto attraverso il suo canale Telegram e poi in privato, scrivendogli sempre su Telegram e da lì a distanza di due o tre settimane ho poi acquistato il percorso e devo dire che è stata una delle scelte migliori che abbia mai fatto, dato che oggi sono in grado di attuare diverse strategie e so cose che un mese fa non sapevo neanche esistessero. Quindi consiglio questo percorso a chiunque, da un ragazzo come me a una persona più grande, è un percorso che fa per chiunque, bisogna avere solamente tanta voglia di fare. Detto ciò, buona giornata. Ciao!